Salvo Boncino, responsabile del quadrifoglio di Adano, interviene sulle elezioni del sindaco di Adano Fabio Mancusa, nuovo presidente dell'Ati, l'assemblea territoriale idrica. Come commentate questa elezione? Commentiamo col fatto che facciamo un augurio, più che congratularci col sindaco, gli facciamo l'augurio di dimostrare che questa sua elezione al presidente dell'Ati possa portare veramente dei benefici ad Adano così come ha detto lui o hanno detto dalla compagine del sindaco. Trovo singolare, lasciatemi dire, l'intervista del consigliere di Rinasce Adano che diceva ieri che era sorpreso, dispiaciuto di quello che avevo detto io due settimane fa perché si doveva aspettare due settimane per capire il perché. Non dovevamo aspettare, non dovevano aspettare i cittadini di Adano, hanno dovuto aspettare loro due settimane per capire perché il sindaco Mancuso non si è fidato di mettere uno dei suoi uomini o di provare a mettere uno dei suoi uomini in un ruolo di importanza, in un ruolo di rilievo nella governanza dell'Acoset. Hanno aspettato loro due settimane, la risposta che hanno ricevuto evidentemente era che il ruolo ricoperto dal sindaco stesso nell'Ati era più funzionale o più importante. Noi continuiamo a non condividere, riteniamo che sarebbe stato più opportuno che Adano avesse un rappresentante nella governance, magari sicuramente, anzi uno degli uomini del sindaco, ma i fatti ci dicono che il sindaco non si fida dei suoi uomini, non li manda a ricoprire ruoli importanti e semmai qualcuno di loro lo manda a fare pubbliche relazioni o fare da addetto stampa. Ma guardiamo avanti, la gente vuole risposte, noi riteniamo che oggi sia insufficiente l'operato di questa amministrazione, che oggi Fabio Mancuso personalizza esclusivamente su di lui, infatti non c'è traccia dell'operato dei vari assessori, non c'è traccia di una compagine politica, è legittimo che il sindaco concentri su di lui l'attività amministrativa. Noi non crediamo all'uomo solo al potere, ma sono scelte, se la loro compagine va bene, per loro può andare bene eppure per noi, non ci va bene per quello che riguarda la gestione della città, perché noi crediamo al pluralismo, a quella democrazia che ha permesso a Fabio Mancuso di diventare sindaco di questa città, e crediamo che sia il sale della democrazia creare quelle contrapposizioni di vedute, perché una città è un territorio che cresce solo se c'è confronto, anche aspro e duro, su quelle che sono le prospettive, su come devono essere spese le risorse di questa città. Noi non siamo per lo sperpero di risorse, noi siamo per la buona gestione e siamo, ripeto, per la pluralità, perché solo così Adrano può veramente ambire ad avere un ruolo istituzionale, politico e strategico nell'ambito del territorio catanese, che è quello che ospitiamo da anni e, ripeto, solo col pluralismo e solo col confronto delle forze politiche si può ottenere questo risultato.